Buon pomeriggio cari video spettatori e bentrovati in questa nuova diretta qui su Twitch Un saluto anche a chi sta guardando indifferito questo video su YouTube e invito loro come sempre a seguirci anche sul canale Twitch perché invece qui su Twitch ragazzi siamo sempre in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 17 siamo sempre qui quindi venite anche voi e più siamo Meglio è, meglio è, meglio è, meglio è Quindi oggi continuiamo ragazzi il quarto episodio di Zelda Siamo negli Zora, nel villaggio degli Zora che se non ho capito male ci stanno gli Zora dei fiumi e Zora di Mare quindi dobbiamo unirli a quanto ho capito, vedremo Ciao Black, ciao Sick Come state ragazzi, come state, come state Io sto senza voce, non so se si sente però a me non potrò cantare per il vostro enorme dispiacere quindi 17 e 40 inizio No, è iniziato invece, è iniziato Allora, la mia domanda è Andiamo con questo Ok, questo è uno degli Zora di Fiumi Normalmente Sembra sto Jabu 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 C'è questo Jabu Jabu Travola Entriamo nelle capanne Andate se andando in questo uno non dovevi denunciare quello che ti ha venduto quella camicia di questa camicia Dicono che è quella di Oh Wars Oh Wars Oh Wars Permette di non dare più velocemente Cavolo Cavolo Cioè, siamo poveri Ma le compro E tal sarà tutto mare qua E poi se le troviamo Non ci importa Le compro Subito Cioè, queste cose ci fanno andare più veloce Vabbè Ehm Come Dove si mettono queste cose Ecco Indosso i giotti di accessori possibili Ah, in automatico Bravissimi Solo questo posso togliere Per il momento Ciao Prenditi Versace Vediamo Questo è Più veloce E prima come andava Scusate Ancora peggio Prima Vabbè Andiamo in quest'altra capanna Vediamo che possiamo rubare Buongiorno Su pesce non possiamo rubare Oh Ma qua c'è sotto acqua C'è il segreto del secolo qua sotto Eccolo lì Ma era una rupia Giusto? Vuoi che fate i sapientoni Ok Ok Andiamo di qua Come si roteava così Rompiamo tutto Trovo un cuore Lo prendo Subito Giornò Qua dentro Qua stai c'è Niente Lancia Ci sarà un segreto qua Ma sicuro Vai sott'acqua Vai sott'acqua Apri Anche senza fare il giro da lì O ci vorremmo andare comunque Allora Qua c'è un'altra roba Ma voi la musichetta La sentite sotto? Ciao Tris Buon pomeriggio Oh Buongiorno Salve Andiamo da qua Eee Dove andiamo qua? Non c'è niente Ma qua finisce il mondo Entriamo qua dentro Ah questo è il capo dei capi Su Jabu Jabu Sotto delle fure Ok Mi occuperò io Vabbè se lo dici Devo tristare Alta Non la cambio Va bene Drud No Non ti piace Ciao Cioè non ti preoccupare Tri Non ti preoccupare Vai tranquillo Un chio litigato Eh ok Zola di mare Va bene Va bene Va bene Va bene Era abbastanza chiaro Dai Dobbiamo unire i popoli Perché noi siamo quelli buoni Ok Quindi il nostro obiettivo Quale sarebbe? Voglio andare dall'altro lato Ora Comunque l'audio qua non c'è Per abbassare l'audio Questo è poco ma sicuro Quindi lo devo abbassare manualmente Però il problema è che poi non si sente nient'altro Se uno ascolta e basta sente versetti strani E' una musica da film porno degli anni 80 Ebbè sei tu quello esperto Black Non so di cosa parli Verso piazza laguna Senza nemmeno ascoltare Quella vedete Quindi dobbiamo andare a piazza laguna Presumo Sarebbe laggiù in fondo C'è un teletrasporto Amici amici Un teletrasporto Punto Via Io si sono casto e pur Siamo qua Buongiorno Saranno qui Amici Che è successo Quindi lui non è tornato qui Vediamo piazza laguna Allora a sto punto Vediamo se sta lì Perché se no devo andare prima Ad agli zara Ad agli zara del fiume Piazza laguna è questa qua Si butta giù Grandissimo Meno male che ci siamo comprati quegli stivali Così siamo più veloci Buongiorno Sarà una volta Faremo tutte solo Ok Questi vogliono Tutto Quindi non possiamo fare niente Dobbiamo andare a forza Dall'altro lato Capitola Ma noi ci abbiamo Sulla mappa Un pallino Blu Dove cavolo sto? Perché non lo vedo? Eccolo Ah questo era quello qua giù Allora dobbiamo andare negli zara Che saranno questi qua Qua Andiamo qua Allora Ehi tu Ok Ok Un ko Anche qua Buongiorno E quindi che vuoi Se è il popolo del mare E' a noi che ci interessa Alga frizzante Ci interessa poco Eccolo qui Ma questa è la tizia Rogma La pressione di uno squarcio Allo stesso tempo La furia di Jabu Jabu La situazione è grave Devo evitare di leggere oggi ragazzi Che è meglio Ah no E' Cushara Giustamente si chiama Vabbè insultato la tua musica Perché tutto sta astio Dai su via Ok ma pure lei Va lì E litigano Speriamo Posso? Roggo ma è sto tipo Ciao ciao Posso? No Sei un genio Tri Sei un genio Se lo dicevi tu Cavolo Vediamo qua che succede Sangue 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 Ma tremano Perché sono incazzati Ma tremano perché sono incazzati Cioè stanno dedicando per chi placa e Jabu Jabu Stanno litigando perché non si trovano d'accordo con le melodie Cioè che cagata Cioè ora suoneranno insieme Ma ognuno per farti i suoi Questa è uguale alla musica che fa Black di solito Uguale Però 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 Eccolo qui Ti è piaciuto? Indietro Guarda lì Ok Ok Guarda lì Guarda lì Ok Guarda lì Guarda lì Guarda lì no giustamente sono morti due e ci sono altri due uguali giustamente ok dove dobbiamo andare la in cima se parliamo con questi tipi non c'è niente vero come faccio io? loro nuotano ma io? vabbè c'è proprio il trasporto sicuramente dove dobbiamo andare? non c'è neanche il pallino c'è il pallino lo segna qua però mi dice di verso nord sicuramente andranno a questa cosa ah nella tana andiamo giustamente nella tana di jabu jabu lo troveremo non voglio immaginare quando li ca... ma lui li mangia cioè li fa pezzettini e poi e poi li espelle normalmente andranno qui? però uno solo ora qua amico? non credo ci possa mettere qualche statua del genere non ha senso o no? vuoi come la vedete? no volevo fare... e ora andiamo verso nord che vi devo dire? cioè questo non è tornato alla satana anche perchè io posso arrivare fino a un certo punto poi non ci posso andare più o no? o no? voi avete qualche idea? ah ecco devo semplicemente salire qua sopra davvero lui è stato a gridare così? ok va bene va bene va bene oh qua è tutto distrutto che è successo? amici dove è andato? è risalito la cascata mi sembra... il grido mi sembra? da quella direzione da lì e com'era risalgo la cascata allora vediamo se vado qua dentro se... lì ci viene un'altra idea ma è un'altra idea no 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 E quindi mi metto a costruire roba Non vedo tante alternative Vabbè posso fare sempre quella cosa lì No questa Questa dopo Abbiamo sconfitto il mostro Dovrei girare Faccio tipo così Vai i numeri Ok poi c'è un altro squarcio Eccoli qua Buongiorno Ok dobbiamo andare là al di là sicuramente Ovviamente Che strano Possiamo andare? Posso? Vai facci entrare Ci dobbiamo ora allontanare In cinque punti diversi Ricordatevi cinque punti diversi Io così Lo lavo Oh no E' uno preso Ah beh si è scritto in alto a destra giustamente No ma qua si va sotto acqua Oh no ma qua si è E' uno preso E' uno preso E' uno preso E' uno preso Bravissimo 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 Grande Allora qua dobbiamo salire Questo è l'amico Frizzi imprigionato Cos'è Cos'è qua la scala Cos'è qua la scala Andiamo prima qua così L'attacca Esplodono E' un po' di ossigeno Via Faccia Volalo Che ha fatto quel pesce Che voleva salire Stava scappando Questo è lo si Faccio Qua ce n'è un altro Siamo al secondo No devo fare Sempre questo Aторio E' un altro Ocigeno Ocigeno No, non viene nell'acqua adesso, eh. Allora qua lo dobbiamo fare sempre così. Abbiamo anche il polipo elettrico ora. C-Cindiri, cindiri. C-Cindiri. Oh, ma dai! Non ce l'ha ucciso. Ok. Adesso lo vuoi fare così, facciamo così. Ah, era una sfera Poké. Passiamo a tre. Che sta, l'ha tolto su tutti i sardi qua, te. Ah no, quella è l'Avatar, che era la Serentu. Non sapevo che cadeva giù, guarda. Allora. 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 dubbio. Ok. Poi possiamo tornare all'inizio, praticamente. Poi salteremo. Moriremo. Ma ci arrivo là sopra. Col letto! Col letto potrà fare tutto, per esempio. No. 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 Ma. No. sentiamocela risali con b poi c'è un uccello malefico quindi ci spariamo subito lei dai non mi dire che non riesce a uccidere stavolta oggi ci siamo venuti si qua c'è qualcosa sotto andiamo a farfalla andiamo ma questo è il capo dei capi ma che non fare ste cose sic non fare che fa male ti senti male siamo a 4 ce ne manca uno ne manca uno mi sa che dobbiamo scendere qua giù forse possiamo risalire da qua allora facciamo i letti come al solito no l'ultima bolla sta lì scendi esamono posto eh sì parliamo sott'acqua che sarà mai no 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 Cioè ormai non saremmo anche più di livello? Due frammenti di potere Torniamo nel mondo normale Questi continuano a litigare comunque Eccola lì Risatteggia Tutto passato eh Tre note ha fatto Forse anche me La musica del popolo del mare In grado di ridare la pace A chi ha perso la calma Che esibizione magnifica gli ha detto E diventano di nuovo amici così all'improvviso Che è successo? Ehm? Ehm? Sera brutte persone Eppure al peggior lilluccio Ciao Nolan Come se Oh Zelda eh Ho la sensazione di aver già sentito questo nome Chissà dove l'ha sentito Ehm? 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 Sono cuoricini Dai Dacci i cuoricini Dai c'è Una cosa La rupia E' strano ci sia roba segreta qua eh Cioè sto posto è fatto apposto Per metterci un qualcosa di segreto No Meno male che ho comprato gli stivali Che corrono più veloce Ma perché c'è il puntino lì? Baia di Zora qual è? Quella in fondo? Eccola là Quindi ci trasportiamo qua E' inutile Farcela a piedi Allora Un posto Questo Va bene Perfetto Ma quegli uccelli noi ce li abbiamo? Gli uccelli ce li abbiamo? No 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 Guarda che fai Eccolo Lo posso prendere? Lo posso prendere? Vai Gira il batros Vai Bravissimo Così si fa Ma io devo andare qua Questa la baia Dove è stato? Forse dall'altro lato Dove sta sta altra cosa Vediamo se c'è qualcosa di strano qua Ma dubito Infatti siamo arrivati all'altro villaggio Poi c'è un altro squarcio Esattamente Se le trovo Sì Ma qua il mare è pulitissimo Non ci sono le ali Ma qua un pesce esplosivo Può far esplodere tutto Pensandoci Allora facciamo Andiamo Come si va Allora così Allora Allora Oh niente Però l'ho rotto comunque Cazzo un frammento? Tipo queste le romperò Presumo Che cazzo ho trovato? Alga frizzante Però non l'ho presa E quindi dove cavolo andiamo? Domanda Andiamo qua a destra Vediamo che succede Un altro squarcio Perché parlava di baia Oh c'è un baule qua Ciao amico Facciamo amicizia Qua finisce il mondo Però vedo Qualcosa di strano No Allora Cuore? Porta cuore C'è un cuore intero C'è un cuore intero C'è un cuore intero Vai Vabbè Facciamo Meglio così No no Non l'ho presa Cominio di averle presa E' una meridiana Ah Questa è cosa del timbro Che succede? Oh L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato Eh voglio stare sott'acqua Ok Mi sto andando a provare In questa grotta Va bene Va bene Dopo dopo Prima devo rompere qua Ah c'è un passaggio segreto Sotto qua Qualche baule Ci siamo dei poveri Ci serve qualunque Ripologia di Di sostentamento Allora andiamo Qua sotto Sarà questo? Presumo di sì Questo però bene Si illumina D'immenso No Come memorizza Non ce l'avevamo questo? Lo fiuccio Oh Arma di fine gioco Uncita l'arma di fine gioco Al volo Eccoci Buongiorno Ci soccorreranno Ma c'è un passaggio da quel lato Che si deve soccorrere Su via Su via Giustamente Ecco la scusante C'è un passaggio da quel lato C'è un passaggio da quel lato Magia Sembra lo stesso nome Questo nome mi sembra familiare Eccoci qua Dai dai che dobbiamo sconfiggere sto pesce gigante Ah mo lui suona e quindi calma l'altro Anche questo tre note Mi sento molto meglio È visto la felice accontenti Ridono pure ora Sì Eh ovviamente è andato verso la satana È andato un amore Ovvio che è andato prima voi Mi sembra il minimo Sennò vi devo pure aspettare Signora Ci ho chiamato signora Che screanzati Che screanzati Che screanzati Allora Vedete la sport Vai Parlando tanti bei piccoli mostriciattoli Sì infatti Facendo una fusione Diventa qualcosa di Fantastico Potrei poter Prendere il peggio Di ogni specie Buongiorno Alve Ma qua c'è un tasto La terra Io l'ho visto Ah Zelda Le statue di gatto Che avevo lasciato io Qua sopra L'hanno rotte Eh ma lo so Io non lo so Ecco Ci penso io Questa come la togliamo Qua Ah Allo stesso modo Madonna Hai fatto il miracolo Come hai fatto Ah perché suoneranno Sui due pilastri Suoneranno loro Otti Ehm Quindi Ehm Quelle Ehm Ehm Grazie a tutti. Grazie a tutti. O vogliamo andare a sconfiggere sto tipo? O vogliamo fare... Glielo chiediamo gentilmente. Questi sono amici di Triss che glielo chiedono gentilmente. Mi è venuta una grande idea. Sentiamo. Vogliono risuonare. Ok? Non credeve lo far fare. E se fosse un impostore sbucato allo squarcio? E come al solito Triss, vedi che non funziona. Oh. Tu tu... Tu tu... Tu tu... Ma siamo molto conti. E ma va? Sì. Siamo che schizzo già. Deve essere di fare lo spavaldo tu. Oh. Sì. 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 Mi ha mangiato? Mi ha risputato pure Vieni come lo ha fatto Si sta attaccando pure l'utero Vale, molto male Dai che noia mai, dai, 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 dai Non cuore si bello Ho fatto male Oh guardalo guardalo morto? ah mancavo un colpo chissà quante volte muore invece mi dispiace una volante volevo eh sono terrificante si dà mille cuori in realtà non ho preso pure i pochi ma cosa ridono? qua dobbiamo salvare il mondo e questi ridono dai andiamo lì andiamo lì andiamo lì ce lo dobbiamo pure andare a salvare a questo no no la non si imposta la difficoltà vedo per poco guardalo vai 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 come è meglio facile quindi andiamo avanti ok questo viene da noi no perché non viene ehi adesso è qua vabbè non importa solleva spacca solleva spacca vieni ho un po' d'acqua qui c'è qui c'è no va va a fare questa cosa qui andiamo qua posso salire qua sopra? no vai Allora, mi salve è lato Mi salve Un secondo lato Mi salve Poi potremmo andare a sottar Ok No Non Ma Perché Non 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 Ma Non 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 Mon non ci posso andare allora vediamo 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 devo appendere vicino a qualche pianta cosa faccio prima forza se nell'acqua creo un letto da dentro l'acqua cosa succede è dai è messo pelo un po' cosa faccio il non lo fa 4 qui Sì, magari ci mettiamo lì, vado da un sacco Ma cavolo devo... Ok Qua c'è qualcosa? No Non si buttate questo Eh dai vai giù, non lo so eh Allora Che abbiamo fatto noi? Un pesce l'abbiamo preso vero? Piragna delle sabbie non credo, vediamo se muore nell'acqua Non vorrei ma a sinistra ti basta un letto Ma qua? Io voglio ucciderli questo Dai, forse ci arrivo Ciao, a domani allora Faccio così Faccio così Non mi ha dato niente con questo Guarda, queste cose strane Bellissimo Guardalo No no, domani ci sono Solo il fine settimana, ragazzi Già ve l'ho detto sul telegram Solo il fine settimana Nada Allora Allora Memorizzo Oh cazzo Oh cazzo E ora si che si ragiona Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo E ora ha vinta ragazzi, è ora ha vinta easy Easy Possiamo andare ovunque E ce la fa costruire ovunque Oplala, il cuore Allora Oh cazzo Ah, devo guardarlo Ehm Per cavolo faccio Ehm Sali tagliamo un po' l'erba qui perchè da un sacco di tempo non si taglia io se faccio questa cosa faccio vedere l'articolo vado qua che succede a me non me lo sottacco appa dove scappio guardalo dove scappio guardalo guardalo ma scappio guardalo ma scendere dove ci porta se scendiamo ah perchè potremmo mandare sia di qua che di la allora ce la farò a cliccare il tasto giusto ah 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 sta nave qua sotto sta barca qua sotto non c'è nulla allora amico vai uh resiste è una cosa che vola tipo questo vai eh lo devi mirare amico bravissimo continua dai che sei tutti nudi allora tu ancora non sei morto quindi facciamo così vai e addirittura vai ok oh oh vai vai tu va a farlo venire vicino a me dai bravissima Ma devo fare tutto il giro d'acqua ora? E là che cosa c'è? Che fai? Non vai a vedere cosa c'è? Hai capito la fatina dove era nascosto? Il problema ora è risalire Come risalgo? Me lo farà fare qua? Ah me lo farà anche nel nulla Ok Quindi lo salgo La faccio da questo altro lato Troppo lontano da questo altro lato Ok Va bene Salgo Ok Ok che già mi ha cancellato quello di prima dove sono? Sali, 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 eccoci, bravissima, bravissima, ti avrei dato manco un centesimo, guarda. Allora, l'amico Frizzi. Ancora, convinta, convinta. Allora, ma perché mi mette ste... ci sarà qualcosa di nascosto allora a sto punto, perché sennò che senso c'ha? Che io posso salire dritto per dritto da lì? 3 E' un baule. Poi ripristiamo al massimo. 10 cavallucci. Quindi è roba che si mangia. 3 5 6 9 9 10 13 12 13 13 16 16 14 16 16 16 16 18 19 16 16 2 Grazie a tutti. Non c'è niente, è vero? Non ti ho ricevuto. Poi c'è un altro... Oh, so di là. Poi no. Mi sa che non ci arrivo. Se crolla quello crolla tutto. Yes! Allora, come possiamo fare? C'è un altro baule là. Allora, facciamo così. Vai! Sono venuto proprio con noi. Questo è proprio destino. Oh! Morto pure lui, però. Sono doppiamente stronzo. Preferito suicidarsi, oh. Oh! 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 via, come se non ci fosse un domani, buongiorno questo mi sa che è meglio si raffrontare così ecco l'amico frizzi, ciao ok lo so che i tuoi amici stanno davanti, dai salviamoci questa cosa dai dai che sconfiggiamo il boss dei boss ma si sta rompendo, perchè non ti sposti e rimani fermo? va bene ma che cosa non si rompe l'anno questo si può spostare ossigeno no qua allora non perché è che in giro, non? non è che non però è che è che è un gioco, non? . quindi non non E' nell'acqua Il mostro cattivo Questo chi è? Presentati almeno Amico No, non ce la faremo mai No, non ce la faremo mai Posso roteare Gisto? No, non ce la faremo E' la svinia Allora Allora Ma non ci vede qua dentro? Ma se non ci vede Vai Ma non ci vede qua Ma non ci vede qua Ma non ci vede qua Ok Quindi c'è due porte Ok Ah, qua da dove siamo entrati Perfetto Ah, qua da dove mi è passato Quindi Però c'è la tosse Non sto benissimo Come salgo Il bussante farà qualcosa? Ok 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 L'amico frizzi qua Ci vuole subito uccidere Ci vuole subito uccidere Lo facciamo assaltare? Ok Allora Facciamo così No Mi piace Ok Ok Eh non mi ha fatto prendere un'altra rupia ce la faremo ce la facciamo ce la abbiamo bravo anche a te amico questa è una zanzara agottero ok una mappa si butta giù l'ossigeno però basta che si attiva no? poi posso anche cambiare anche l'unica rupia ora questo ne è uno dobbiamo fare cinque nooo allora tu ti ne Anco? Quanto cavolo è giuro? Allora, vado subito, immediatamente. Oh! Ah, che c'è un nuovo! Oh, che c'è! Oh, che c'è! Anco! Eh vabbè Ok c'è una cassa là sotto da distruggere Così vado all'interno Che vado a fare all'interno? Dobbiamo andare qua sopra io Vabbè facciamo così Vediamo cosa posso fare Ah Ma questo per aprire la sua baura Ah Sabe o è cade o? Ok Questo pulsante dove sta? Ripeto questo è il primo di 5 pulsanti Pesitivo Ma su se Vai che stai qui Ma dai Eh ma faccio uscire dalla granchia perché sto Cioè Farfalla non riesce a colpirlo Eh dai Guarda lo squalo come è una persona seria Grazie Bravo squalo bravo Bravo squalo bravo Ecco l'altro dosso Sì Sì Cioè Sì 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 ci sono altri tre cosi eccoci andiamo dal blu dall'altro grazie a tutti grazie a tutti la pianta questo non c'è bene bravissimo bravissimo ti devo prendere ossigeno e dove è il passaggio ormai non li metto a sconfiggere tutte perché sennò mettiamo delle ore ok andiamo sopra quindi serve fuoco il fuoco sotto come lo accendo questo ok lo accendo è questo vediamo se lo posso spostare no c'è un altro ah ecco non mi che l'avevo visto no no Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì.